Misura del divieto di avvicinamento disposta dal GIP nei confronti di un uomo di Enna accusato di atti sessuali su una minore. La vicenda è venuta a galla a seguito della denuncia presentata dalla giovane vittima, la quale ha raccontato ai poliziotti della squadra mobile di Enna di essere stata costretta a subire gli atti sessuali da parte dell'indagato. Subito sono state avviate le indagini coordinate dalla procura ennese ed è stata disposta l'audizione protetta della ragazza, ascoltata in una delle stanze allestite per questi casi e con il supporto di una psicologa. Sulla base degli elementi raccolti la procura di Enna ha poi chiesto e ottenuto l'applicazione del provvedimento cautelare. Ora si attende che venga chiusa l'inchiesta.